Musica Nelle università americane i dipartimenti di spettacolo, in particolare di storia del cinema o di studio della produzione cinematografica, hanno una dignità, una qualità e un valore non inferiore ai dipartimenti di letteratura o di medicina o di giurisprudenza. Esistono delle scuole di grande importanza e di prima grandezza, per esempio le due scuole universitarie della California, UCLA e USC, ma anche qui a New York, la Tisha, la New York University. Insomma ce ne sono tante di eccellenza. Parto da questo presupposto per raccontarvi una realtà nata quasi vent'anni fa, esattamente nel 2000, che si chiama la Ghetto Film School e nasce dall'iniziativa visionaria di un giovane che si chiama Joe Hall, non soddisfatto su come le iniziative pubbliche delle relative città, in questo particolare caso New York, potesse in qualche modo aiutare chi non era in grado, chi non è in grado, di permettersi un'università che è sempre molto costosa qui negli Stati Uniti. Pensate che la media della retta universitaria, per esempio alla Tisha, è circa 60.000 all'anno e se si va invece ad Harvard o altre università dell'Ivy League si arriva fino a 70.000. La Ghetto Film School o la GFS, in America abbiamo tutti la mania dell'acronimo, ha una base centrale nel South Bronx, che è una delle zone più povere, più diseredate della città di New York, quasi al confine con Manhattan, è separato appunto dall'isola ricca della città di New York e dall'Arlem River. La scuola ha una sede relativamente povera, ma già entrando si vede una realtà molto attiva, molto vitale, si deve, come dicevamo, all'intuizione di Joe Hall che è riuscito a convincere e a coinvolgere alcuni registi di prima grandezza, per esempio David O'Russell e Spike Lee, frequentemente vanno a insegnare dei corsi del tutto gratuitamente. E insieme a loro ci sono una serie di altri importanti registi che sono nell'advisory board, per esempio Wes Anderson, Spike Jonze, Jim Jarmusch e molti altri. Di cosa si tratta? È una scuola che cerca di insegnare sin dal liceo, questa è la differenza, quindi non sono corsi universitari, ai giovani come diventare dei registi. Ed ha un elemento fondamentale che è quello della diversity, cioè della diversità. In poche parole cerca di dare enfasi, cerca di dare maggiore importanza a chi per motivi di gender, di tradizione, di cultura, di religione, di colore della pelle è, tra virgolette, diverso. Ecco, la diversità diventa un elemento centrale e proprio su questo dato alcune major, come ad esempio la Warner Bros. hanno cominciato a puntare finanziando, aiutando nei finanziamenti la Ghetto Film School. Pensate che quest'anno, a 19 anni di distanza dalla fondazione, la Ghetto Film School può contare su un budget di 4 milioni di dollari. Perché la Warner Bros., ma anche altre istituzioni, anche altri milionari, cominciano a essere interessati a qualcosa che nasce, come dire, dal basso, per aiutare i più diseredati. Perché oggi l'elemento di diversità è qualcosa che viene premiato ad Hollywood. Quindi dal basso c'è la volontà di fare qualcosa di nobile, dall'alto c'è l'interesse delle grandi case di distribuzione e produzione di utilizzare questi nuovi talenti alla luce di molti film che negli ultimi anni hanno avuto quasi inaspettatamente un successo planetario. Pensate a Black Panther. Fino a due o tre anni fa sarebbe stato inconcepibile pensare a un film basato su un eroe in dei fumetti Marvel che avrebbe, come ha, conquistato non solo la platea in ogni parte del mondo, ma anche molte nomination all'Oscar. Quindi qualcosa che nasce, lo voglio ripetere, con un intento nobile per aiutare i diseredati, coloro che non se lo possono permettere, coloro che sono considerati in qualche modo diversi, che invece diventa un grande investimento commerciale al punto che Hollywood se ne accorge e mette non solo a disposizione i propri investimenti, ma in qualche modo inserisce nei radar dei giovani che vanno dai 15 ai 18 anni, ancora prima delle scuole universitarie. Non tutti hanno un interesse commerciale, per esempio fa onore alla Free Collection l'aver sposato questa bellissima iniziativa. E nello stesso tempo, grazie a questi finanziamenti, la scuola si sta espandendo. C'è una sede anche a Los Angeles e ogni anno gli studenti vengono mandati in giro a conoscere le realtà cinematografiche di ogni parte del mondo. Verranno anche in Italia, a Roma, sono stati a Johannesburg, sono stati a Shanghai. Insomma, questa attenzione alla diversità sta diventando qualcosa di assolutamente interessante, sia per chi lo vive in maniera nobile, sia per chi lo vive in maniera interessata. È interessante notare come la Ghetto Free School ribalta il concetto stesso di ghetto. Non si tratta più di un luogo chiuso, visto quasi con disprezzo, se non con paura, ma un luogo dove può nascere il futuro. Un saluto da Central Park West.